L'elite ci manovra con estrema facilità perché conosce e agisce sul nostro ego. La maggior parte delle persone ha necessità di alimentare i propri ego. Ecco perché, vi faccio un esempio, se un post parla di un suicidio di una persona che si spara in testa può raggiungere e superare 30.000 visualizzazioni, ma un post dove vi viene svelata la verità, dove non c'è quindi il trauma, dove non ci sono informazioni forti e dove magari vi si propongono delle soluzioni, se va bene raggiunge 500 visualizzazioni. Non è un problema di concorrenza, non è un problema di arrivare primi, è un problema che fa comprendere a che livello è ancora ridotta la massa. Ecco perché ci vuole poco ad essere distratta. Non a caso i media sono gestiti per manovrare le vostre menti, non fanno informazione, fanno manipolazione delle vostre menti, o meglio delle menti di coloro che ancora oggi guardano la tv, ascoltano la radio e leggono i giornali. Quindi i media non fanno informazione, fanno manipolazione, manipolazione delle menti. E questo è assai grave, perché non solo manipolano a livello egoico, ma subentrano anche questioni tecniche, di PNL, di manovre occulte che agiscono all'interno del sistema neuronale, brevetti che sono facilmente anche reperibili in rete, per lo più statunitensi, dove si spiega la tecnologia moderna e il modo col quale questa tecnologia riesce a influenzare e a entrare nell'inconscio delle persone. Consiglio utile per chi si sta approcciando a queste tematiche di questo canale, come di tanti altri canali. Spegnere la tv, eliminare i giornali e spegnere anche la radio. E' meglio dedicare il proprio tempo al ragionamento logico e ascoltare la musica della propria coscienza, che è decisamente preferibile a qualunque altro speaker radio televisivo. E ha anche molto, ma molto più da raccontarvi.